Io la cercavo da te, non sono come te papà, no, non amo dirigere, e non sono una guida a cui il popolo affida ogni sua crede in quietudità, non parli mai di me, lo so. E il vincitore per il miglior testo del Bindi 2011 è Luigi Mariano, consegna la targa a Dario Zigiotto. Come diceva prima Dario mi ha suggerito, non ho parole perché lei già usate tu, un'impressione. No, innanzitutto ovviamente non me ne aspettavo assolutamente, non so se forse il testo di Edoardo colpisce appunto questo rapporto col padre, che come spiegavo nell'introduzione del brano non è mai una cosa molto facile. Io ho utilizzato parole molto semplici e soprattutto molto intime, per parecchi anni questa canzone l'ho lasciata nel cassetto proprio perché ne avevo pudore. Poi a un certo punto ho detto no, la voglio mettere anche nel disco perché comunque le emozioni sentite e spontanee alla fine pagano sempre. Luigi Mariano